È una storia d'amore materno senza limiti e senza confini quella della mamma gatta Alita che senza alcuna difficoltà ha accolto nel suo nido due cuccioli di cane appena nati. Questo racconto purtroppo inizia con una sfortunata perdita, quella di Stella, cagnolina meticcia di sei anni, incinta, arrivata nell'ambulatorio del dottor Brandi a Castiglion Fiorentino in condizioni disperate. La cagna era sottoparto da un paio di giorni e quindi il cagnolino che era impegnato nel canale era già morto, si vedeva proprio la testolina già schiacciata, poverino, e quindi siamo intervenuti subito, abbiamo fatto un cesario di urgenza, soltanto che probabilmente per lo stato tossico in cui versava la cagnolina è deceduta. Due cagnolini sono comunque venuti alla luce purtroppo senza mamma. Si sa che è sempre un problema allevare i cuccioli diciamo in maniera artificiale perché bisogna stargli molto dietro. A salvare loro la vita un'idea nella stessa casa della cagnolina Stella, infatti la gatta Alita aveva da poco partorito quattro gattini e proprio da lei è arrivato così l'atteso aiuto. Non ha fatto nessuna rimostranza, anzi, dopo qualche ora allattava i gattini che litigavano per il latte insieme per i cani. Argo e d'astro, così sono stati battezzati due cagnolini, adesso sono accuditi con tanto amore da mamma Alita. Sicuramente è un insegnamento che ci possono dare, nel senso che nel momento del bisogno aiutare chi ha più bisogno.